Buonasera e benvenuti dal Pala Quarta Loretti di Monteroni di Lecce. Oggi intervista infrasettimanale con Pietro Gilli. Buonasera Pietro, volendo fare un salto indietro, domenica abbiamo assistito a una bella partita contro Apricena. Nonostante la partita fosse stata molto fisica, Monteroni è riuscito a spuntarla soprattutto nell'ultimo quarto di gioco, dove Monteroni ha dato la spinta giusta. Cosa ne pensi al riguardo? Buonasera a tutti, domenica è stata una partita difficile perché comunque era una trasferta lontana. Noi siamo partiti un po' così così, però siamo stati bravi a trovarci soprattutto dopo nel secondo quarto e fino alla fine. Siamo stati bravi a rispettare il piano partita, giocare la nostra pallacanestro. Siamo stati bravi in difesa perché poi quello ci ha permesso di andare in attacco e prendere tiri puliti, con fiducia. Quindi questa è stata la chiave della partita di domenica. Proprio in merito alla difesa, un elogio va a te e ai compagni che avete condotto fino all'ultimo veramente bene la partita. A tal proposito, come pensate di lavorare in settimana anche in virtù del prossimo match? Sì, allora, domenica ci aspetto una partita sicuramente importante, molto sentita, quindi noi dovremmo partire dalla difesa sicuramente perché è la nostra arma in più. Poi sicuramente Lecce ha giocatori forti e quindi dovremmo preparare molto attentamente la partita. Siamo ormai all'ottava giornata di campionato con la partita di domenica. Monterroni ha guadagnato la quarta vittoria, quindi il clima che si respira sicuramente negli spogliatoi è dei migliori. Come state vivendo questa fase positiva? Noi veniamo da tre vittorie consecutive, questo comunque per noi è importante perché lavorare dopo una vittoria è molto più facile. Sappiamo però che ancora non abbiamo fatto niente, quindi dopo una vittoria torniamo subito in palestra a lavorare ancora di più, ancora più intensamente, quindi il clima è buono. Quindi questo ci permette di lavorare in settimana ancora più duramente, più intensamente per arrivare poi pronti il più possibile alla partita che ci aspettano la domenica. Sei il più vecchio nella squadra del Monterroni, ovviamente non in termini di età ma quanto di presenza. Come ti fa sentire, come vivi questa bella esperienza in Maglia Giallo-Blu? Per me questo è il secondo anno, l'anno scorso è stato sicuramente un anno positivo di crescita e quest'anno c'erano tutti i presupposti per continuare a far bene perché comunque io qua mi trovo bene, c'è la possibilità di lavorare tanto, lavorare bene e quindi è sicuramente una cosa per me positiva e quindi spero di continuare a far bene. L'ultima domanda, vorrei che lanciassi da parte tua e da parte anche dei tuoi compagni ovviamente ai tifosi un invito per venire ad assistere alla partita. Sì, la partita di domenica per noi è molto importante, soprattutto il fatto che giochiamo in casa avrà un ruolo molto importante e la spinta dei tifosi servirà soprattutto per la partita di domenica e quindi invito tutti a venire al palazzetto per sostenerci. Grazie Pietro, noi ti salutiamo. Dal Palazzo Quartaloretti è tutto, vi auguriamo buona serata e vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social nonché sulla nostra pagina YouTube NPM TV. Da Simone Donnetutto, buonasera.